la prima cosa da fare è quella di formattare la scheda sd contenuta nella reflex possiamo farlo dal computer o direttamente dalla reflex visto che farlo da computer sapranno farlo tutti io vi mostrerò come farlo dalla reflex che altrettanto semplice però comunque accendiamo la nostra reflex premiamo il pulsante menu per andare nell'impostazione appunto e qui nella sezione questa qui andiamo in formata card di memoria premiamo ok andiamo su sì chiaramente non vi sto a dire che nel caso abbiate foto video che non volete perdere dovete salvarle perché con questa procedura perderete tutto una volta fatto ciò possiamo semplicemente uscire dal menu spegnere la nostra reflex e andare al computer ora che siamo sul computer dobbiamo andare su google con qualsiasi browser non ha importanza e cercare nikon di 3300 firmware chiaramente io ho la nikon di 3300 ma se avreste la nikon di 5400 per dire dovreste cercare di 5004 firmware quindi cerchiamo e clicchiamo il primo risultato in questo caso di 3300 trattino nikon download center una volta in questa pagina ci richiamo sulla scheda firmware e qui scarichiamo ciò che ci serve nel mio caso per me è uscito l'aggiornamento del dati del controllo di distorsione quindi questa qui però nel caso voi aveste una versione nuova del firmware dovreste scaricare la versione nuova del firmware io appunto questa qui quindi clicco visualizzare la pagina di download windows chiaramente se avete windows cliccate windows se avete macos cliccate macos ora se avete linux molto a breve uscirà un video su come farlo anche con linux quindi quindi scendiamo un po e appunto ci troveremo qui clicchiamo su accetto ci mettiamo lo spunto e clicchiamo su scaricare inizierà appunto il download effettivo molto bene una volta scaricato appunto il file exe altro non è che alla fine un zip autoestraibile andiamo ad aprirlo allora io farò mostra nella cartella appunto e vado ad aprirlo con due clic normale come se fosse un qualsiasi programma perfetto ci scompatterà quest'altra cartella noi ora ciò che dovremo andare a fare sarà collegare la nostra scheda sd al computer che appunto verrà riconosciuta ora vabbè questo questa scheda non ci serve qui semplicemente chiudiamo e copiamo questo file nella root della scheda sd quindi facciamo semplicemente così mi raccomando non copiatela in sotto cartelle non fate cartelle apposta nella root deve essere proprio nella root in questo modo perché se voi la mettete tipo dentro dc oppure create una cartella aggiornamento per essere più comodi siete più comodi voi ma la reflex non vi deve dare l'aggiornamento quindi sarà assolutamente inutile comunque col computer abbiamo finito possiamo estrarre la nostra scheda sd e andare nella reflex ok ragazzuoli ora che siamo tornati nella reflex è importante rimuovere l'obiettivo come ho fatto io rimuovete l'obiettivo e magari mettete il tappino sia sull'obiettivo che sulla baionetta della reflex questa è una precauzione che hanno aggiunto da poco credo perché l'ultima volta che ho aggiornato i dati sul controllo della distorsione non era presente e parliamo di neanche un anno fa cioè si parlerà di dieci mesi fa quindi comunque è una precauzione credo che non succeda niente se lo lasciate su però ecco ascoltiamo i produttori insomma un'altra cosa quando rimuovete l'obiettivo mettete la reflex che guarda verso il basso per intenderci questa è una precauzione ancora una volta non succede niente se non lo fate ma è una precauzione per evitare che entri la polvere sulla reflex comunque inseriamo la nostra sd nella reflex andiamo ad accenderla ci richiamo in menu questa volta non dobbiamo stare qui nella chiave inglese ma scendere su questo qui ultimo qui appunto ci richiamo in versione firmware premiamo ok il firmware che andremo ad aggiornare noi sarà l'l quindi scendiamo su aggiorna firmware appunto premiamo ok andiamo su sì aggiornare i dati di obiettivi e premiamo ok mi raccomando di farlo con la batteria completamente carica perché altrimenti rischiate che si spenga mentre sta facendo l'aggiornamento chiaramente con i dati di controllo della distorsione non succede però con quelli del firmware che un po più pesante il rischio c'è spegniamo la reflex come ci dice lui ora c'è chi dice di rimuovere la batteria e chi dice di no io lo faccio semplicemente per precauzione ancora una volta quindi rimuoviamo la batteria un dieci minuti scusate un dieci secondi sono passate un po di più di dieci secondi in realtà comunque se non la rimuovete non succede niente semplicemente ancora una volta una precauzione come sempre ora possiamo accenderla andare nuovamente a formattare la scheda appunto ma fate un po come volete non cambia assolutamente niente ora possiamo apurare effettivamente come il l'aggiornamento del firmware appunto sia stato effettuato ecco la prima voce andavo a cercarla in giro per il mondo ed era qui perfetto premiamo sul fine ora chiaramente possiamo rimontare il nostro obiettivo